Il comune senso di umanità ha un spento la luce? Guarda, Corrado, è difficilissimo parlare, dopo le immagini che abbiamo visto, parlare comodamente seduto e con la pancia piena. Mi sembra che ogni parola non fa che aggiungere in potenza e in utilità le tante parole già spese. Provo solo a dire una piccola cosa. La grande domanda che mi faccio, ma non da oggi, almeno da qualche settimana, è se Netanyahu si rende conto che la sua è una politica anti-israeliana, perché sta sperperando il bonus di credito e di prestigio che aveva Israele, che ha sempre avuto Israele, almeno presso l'opinione pubblica occidentale, in quanto democrazia circondata da satrapie e da dittature religiose. Questo bonus è buttato a mare insieme a tutto il resto. Ma qualcuno glielo dirà, me lo chiedo sul serio. Io non sono un analista, sono uno seduto qua che guarda queste immagini e capisce che non può fare quasi niente di utile. Un'altra cosa che mi colpisce moltissimo, Corrado, oltre a questa domanda, se qualcuno è in grado ancora di avvertirlo, che sta facendo anche profondamente male al suo popolo, al futuro di Israele. L'altra domanda che mi faccio è, ma da quelle parti lì, uno che non impugna la Bibbia e non impugna il Corano, come campa? Noi stiamo assistendo a una delle più grandi disfatte della laicità del mondo moderno. I due popoli sono totalmente in ostaggio dei loro oltransisti religiosi. Ci sono membri del governo israeliano, quindi non intellettuali stravaganti, membri del governo che chiamano alcuni territori con il nome biblico, Samaria, Giudea, con il nome di 3.000 anni fa, cioè come se nel libro fosse scritto che quella è terra loro. Allora, come ci si fa a opporre? Allora, Hamas sappiamo tutti che è un partito che si ispira al fondamentalismo religioso islamista, al jihad. E sicuramente Hamas ha dato prova di volere esterminare il numero maggiore possibile di cittadini israeliani. Ma come fai a opporti all'oltransismo religioso con una cosa che è uguale e contraria? Non solo, ma... E come fai a vendicarti per mesi fino ad arrivare ad accopparne dieci volte tardi? Aggiungo Michele che Israele, che è...